Lista civica, un impegno comune. Fabiani per Castel San Nicolò. Un impegno comune che vuole essere cosa? Deve essere una svolta sulle politiche amministrative che ci sono state fino adesso. Noi vogliamo assolutamente avere un confronto con le persone, con la nostra popolazione, con i nostri cittadini. Abbiamo già fatto incontri con le associazioni, con i commercianti, con le associazioni che si occupano di sociale e abbiamo avuto un grosso entusiasmo a questa nostra richiesta. Daniele Fabiani, candidato a sindaco con una lista costruita come? È una lista assolutamente civica dove non ci sono conduriture politiche, una lista molto giovane, una lista con tanto entusiasmo, una lista dove si deve riportare al centro l'impegno di tutti a mandare avanti questo nostro territorio. Un impegno comune, un punto chiave per Daniele Fabiani? Allora, c'è da fare grossi interventi soprattutto su tre aspetti. Noi abbiamo da fare un recupero sull'ex ferri, abbiamo da fare un recupero importante sul parco furiale, abbiamo un altro grosso incremento sui giardini, per cui queste grosse tre interventi insieme, recupero nostro a portare persone qui, penso a Prato Magno, penso a tutto quello che sono le possibilità del trekking, del bike, far rivivere in parte questo comune. Grazie a tutti.